Dopo due anni di pausa a causa della pandemia da Covid-19 ripartono le attese manifestazioni aeree nel paese. Ad annunciarlo l'Aeroclub d'Italia, l'ente che organizza tutte le pubbliche manifestazioni aeronautiche, che ha previsto un calendario ricco di apporti civili e militari. Fra tutti la partecipazione, come di consueto, della patuglia acrobatica nazionale del 313esimo gruppo addestramento acrobatico dell'aeronautica militare, più nota al pubblico, con nome di frecce tricolori. Si inizia a Molfetta e Giovinazzo il 7 maggio per poi proseguire con l'appuntamento dell'8 maggio a Bari, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Dopo lo stop, causa pandemia, la città torna dunque a respirare la tanto attesa normalità che riporta il capoluogo al centro della tradizione legata a San Nicola, tra fede e folclore, e la nutrita partecipazione della comunità a un rituale antico e sentito da tutta la regione, e non solo, coagulando l'attenzione da parte di tantissimi fedeli in arrivo da fuori Puglia. In prefettura Bari si è svolto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per definire tutte le tappe della manifestazione e il ritorno delle frecce nei nostri cieli. Al tavolo, insieme al prefetto Antonio Bellomo, il questore Giuseppe Bisogno, il comandante della polizia locale di Bari Michele Palumbo, Guardia di Finanza, Carabinieri, Aeronautica Militare, Protezione Civile, il sindaco di Bari Antonio De Caro e gli altri primi cittadini interessati dall'evento.